Un'intera esistenza al servizio della parola di Dio e di quella dell'uomo, con la dimensione contemplativa della vita nel cuore e la capacità di entrare con quello stesso cuore innamorato di Dio, nel profondo della concretezza di una diocesi fatta di 5 milioni e mezzo di persone, quella di Milano. Sarebbero tante le definizioni, le cose da dire, gli eventi da ricordare e da raccontare riguardo al cardinale Carlo Maria Martini. Nato il 15 febbraio 1927 a Torino, secondo genito di una famiglia di solide tradizioni piemontesi, Carlo Martini, fin da giovanissimo, è un brillante studente durante la guerra presso il Collegio dei Gesuiti, comprende la sua strada, che sarà darsi per intero al Signore, anche egli come padre gesuita. Il 13 luglio 1952, infatti, a Chieri, è ordinato sacerdote. Biblista, rettore della prestigiosa Università Gregoriana, noto a livello internazionale per i suoi studi, è un predicatore amato da Paolo VI e poi da Giovanni Paolo II, e sarà proprio Papa Voitiva a volerlo pastore della grande e complessa Chiesa Ambrosiana. Il 29 dicembre 1979 è eletto arcivescovo di Milano, ordinato vescovo circa una settimana dopo. Cardinale nel 1983, siederà su quella catedra di Ambrogio Carlo, da cui guiderà la diocesi per oltre 22 anni. In tanti momenti non facili, dal 10 febbraio 1980, giorno del suo ingresso solenne in diocesi, compiuto a piedi in una Milano fredda e piovosa con il solo Vangelo in mano, un'immagine per molti indimenticabile, fino all'11 luglio 2002, quando rinuncia per raggiunti limiti di età. Anni di profonde trasformazioni, spesso di violenza, con il terrorismo, ma anche con una feconda vivacità ecclesiale che Martini sa suscitare in ogni componente della società, a partire dai giovani, anzitutto con la scuola della parola, che ha segnato uno stile di discernimento e crescita nella fede, attraverso lo strumento privilegiato della lezione divina. Per tanti di noi, ragazzi di allora, rimasto fondamentale. E poi, solo per citare qualche flash, la straordinaria esperienza della cattedra dei non credenti, o meglio, come ha detto proprio il cardinale di recente, i non credenti che salivano in cattedra, in un gioco di domande dove, credenti o no, tutti erano comunque pensanti. E poi, gli attesi annuali discorsi alla città. E ancora, la presenza costante che ha portato l'arcivescovo a farsi prossimo, nel centro della sofferenza, attraverso le frequenti visite agli ammalati, al dolore innocente, ai carcerati, da sempre carissimi, al suo animo di pastore e di uomo. E si potrebbe continuare con il dialogo promosso ovunque, alle fonti eterne della nostra fede, con i pellegrinaggi nell'amatissima Terra Santa e a Gerusalemme, o con le visite pastorali, compiute ai quattro angoli della nostra terra ambrosiana, o incidendo all'interno della stessa struttura ecclesiale, con la grande assemblea del 47esimo sinodo della nostra diocesi. Attività condotte con coraggio e forza, prove ritate, adversa di ligere, come recita non a caso il suo motto episcopale, senza dimenticare mai il confronto esterno, realizzato attraverso l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, in primis con la comunità ebraica e poi con quella musulmana. E allora tornano alla mente le sue lettere pastorali, dalla prima che spesso Martini ama ricordare, appunto la dimensione contemplativa della vita, un programma e un progetto essenziali per ripartire da Dio e non avere paura, divenuti realtà di un popolo in cammino, nelle tante difficoltà della vita umana, ma con gli occhi rivolti all'unica certezza, il Signore, come il Cardinale ha detto nel silenzio, in Duomo, quando circondato da tantissimi sacerdoti e idealmente da tutti gli ambrosiani, è tornato a Milano per festeggiare il suo venticinquesimo di episcopato. Poi sarebbero venuti gli anni dell'aggravarsi della malattia, con il ritorno per questo da Gerusalemme, ancora una volta in terra ambrosiana, a Gallarate, nel Collegio dei Gesuiti. Via via sempre più rare le sue apparizioni pubbliche, qualche intervista, il volto sempre più scavato e la voce sempre più flebile. Infine il Cardinale, quasi persa la parola, pregava incessantemente. Fino al primo pomeriggio del 31 agosto, quando il suo cuore generoso e grande ha cessato di battere. Il primo settembre Carlo Maria Martini, circondato ancora una volta dall'affetto della città intera, riunita sul sagrato dapprima, la bar accolta e benedetta dal Cardinale Scola, poi in Duomo per la Camera Ardente, persone semplici e note in fila per una preghiera e un ultimo saluto, al feretro, posto a pochi metri da quella che per 22 anni e 4 mesi fu la sua cattedra di pastore, amato, indimenticato e indimenticabile di Milano, gigante della fede, maestro della parola, studioso in signe, uomo e prete, semplice, di Dio, la definizione che di sé più amava.